Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio telespettatori di Tele4, quest'oggi essendo venerdì come ormai avete imparato a discernere la puntata di Trieste in diretta è dedicata alla cultura e allo spettacolo. Nella fattispecie parleremo di cinema perché nella seconda parte ospiteremo Alessandra Scarino che è una collega giornalista che ha scritto un romanzo dedicato a Federico Fellini. Nella prima parte siamo invece in compagnia del nostro amico e collega Alan Viezzoli che ha seguito come sempre assieme ai suoi scherani, ai suoi tuoi sodali, il Festival di Cannes e con il quale parleremo del Festival ma anche di altro. Tra l'altro come dico sempre Trieste in diretta è un po' una zona franca, possiamo anche occuparci di cose non necessariamente triestine quando si parla di spettacolo. È stata una settimana con due colpi piuttosto notevoli perché se ne sono andati Trey Williams in seguito se non mi sbaglio ad un incidente di moto. Sei che ammetto di non aver letto, sono sincero. Trey Williams è un attore che molti ricordano, specialmente quelli della mia generazione perché è stato uno dei protagonisti di Hair, il musical che Milos Forman nel 79, se non vado errato, trasse dal fortunato musical controcorrente che ormai è diventato invece un piccolo classico ma soprattutto ci ha lasciato ieri una grande attrice britannica e quindi quando si dice un grande attore britannico in genere già si entra in un empireo, cioè Glenda Jackson che due premi Oscar mai ritirati fra l'altro perché che oltretutto aveva un accento, una pronuncia inglese impeccabile e quindi chi volesse imparare l'inglese attraverso i film si prenda un film di Glenda Jackson che oltre ad assistere ad una prova d'attrice sempre incredibile, ascolta anche un bel inglese. Fammi aggiungere ancora Francesco Nuti insomma che è stata la terza persona legata al cinema che scompassi questi giorni. Sì è stata una settimana non piacevole. Non piacevole per dire la verità. Tra l'altro c'è un sorrido perché una volta il mio amico Stefano Patriarca ebbe a dire io sono un grande fan di Sam Peckinpah e poi aggiunse non vedo l'ora che muoia così la Rai ritrasmette i suoi film. Ora non c'è nemmeno più questo per dire la verità. Sì in effetti è vero. Teniamoci lì più che possiamo. Allora festival intanto partiamo subito da un dato non mi ricordo con chi con chi avevo parlato forse con te al telefono credo. Può essere. Forse anche con qualche altra persona. Festival di Cannes Gli italiani sono tornati a mani vuote. Esatto. Altilai come sempre dalla stampa italiana eccetera. È veramente un peccato? Sì. Per quanto mi riguarda sì. C'erano tre film italiani in concorso che erano Il Sol dell'Avenire di Nanni Moretti, Rapito di Marco Bellocchio e La Chimera di Alice Rohrwacher. secondo me Il Sol dell'Avenire, e non lo dico per campanilismo ma lo dico perché lo penso seriamente, era il miglior film passato a Cannes in questa edizione. Io l'avevo visto già prima perché mi aveva parlato una volta. Esatto. Era uscito già in sala perché c'è questa cosa per cui i film presentati a Cannes devono essere inediti un po' alla Sanremo però c'è una piccola deroga cioè nei 30 giorni prima che cominci il festival solo nel paese di produzione del film il film può uscire nelle sale. Un po' macchinosa come roba. Un po' macchinosa sì semplicemente è una cosa proprio fatta forse anche per promozione del film. È l'esatto contrario degli Oscar dove è necessario invece appunto che un film è un altro discorso. E devo dire che generalmente i film non usano questa cosa a parte Moretti perché Moretti sia questa volta che con mia madre nel 2016, vado un po' a memoria, avevano fatto questa stessa operazione, erano usciti in sala. Ma anche perché Moretti predilige Cannes. Se non vado errato quasi tutti i suoi film passano per Cannes. Esatto c'era addirittura il fatto che Tre Piani doveva essere, che era il film precedente a questo, doveva andare a Cannes nel 2020 che è stata l'edizione che non si è fatta e lui piuttosto che portarlo a Venezia per esempio ha aspettato un anno intero l'edizione successiva di Cannes per presentarlo effettivamente là. Ma il film però leggevo adesso, io leggevo con grande divertimento le cronache da Cannes di Marco Giusti. Ok sì. Lui sosteneva però che il film non era stato capito dai critici. Sì è vero, la stampa estera non ha capito, non ha capito, non ha apprezzato il film di Moretti che veramente io fatico a comprendere questa cosa perché francamente al di là poi insomma del, cioè lo trovo un parlare di cinema in senso generale perché al di là poi della famosa scena dell'attacco a Netflix che effettivamente è divertente, fa pensare tutto quanto vuoi. E anche là ti troverà d'accordo immagino. Esatto ma ha trovato d'accordo un po' tutti e devo dire che comunque secondo me tutto il resto del film riesce comunque a parlare di cinema in maniera generale. Quindi io sono comunque tornato a vederlo anche a Cannes perché volevo, un po' perché mi è fissuto talmente tanto che volevo rivederlo, un po' perché volevo sentire la sala. Ed effettivamente è stato bellissimo perché la sala rideriva, la sala applaudiva nei momenti giusti. Scusate perché qui c'è da fare secondo me anche una distinzione abbastanza fondamentale, nel senso che fino a qualche anno fa, una ventina d'anni fa diciamo, ma forse anche meno per dire la verità, sappiamo benissimo che all'interno dei festival vi erano delle cinematografie che se non vincevano, se non portavano a casa dei premi a Cannes magari li portavano a Venezia, se non a Venezia a Berlino e quindi insomma c'era una specie di compensazione, cosa del genere eccetera. Perché fino a qualche tempo fa alcune cinematografie ritenute minori, per tutta una serie di ragioni, venivano presentate ai festival. Però erano, come posso dire, talmente lontane da un sentire cinematografico, virgolette occidentale, che comunque è quello che imperava nei festival, adesso è cambiato tutto. Adesso abbiamo delle cinematografie che fino a qualche anno fa non ti immaginavi nemmeno, neppure che potessero esistere, figuriamoci mandare dei film ai festival e quindi voglio dire la competizione, se mai si può ragionare in questi termini, non è più fra Italia, Francia, Germania, Spagna, lasciamo perdere gli Stati Uniti e Gran Bretagna che in genere vengono un po' snobbati per tutta una serie di ragioni di ragione. Adesso la competizione è con più paesi insomma e quindi il livello tecnico diciamo così e artistico dei film è livellato, come dire, in alto, per cui c'è anche questo da prendere in considerazione. Indubbiamente sì, devo dire di sì e forse, poi lì è sempre un discorso molto delicato nel senso che le giurie sono sempre estremamente diverse, però c'è anche, secondo me c'è anche un po' il fatto che comunque anche i giurati, anche i critici, anche le persone che vanno a vedere i film ai festival, hanno accesso a molte più cinematografie del mondo, esatto, anche proprio il fatto di comunque vedere le serie coreane, vedere i film sudamericani, vedere, perché poi con Netflix, con Mubi, con queste piattaforme si vede un po' tutto da tutto il mondo, quindi non è più quella cosa del, ah chissà com'è questa cinematografia, chissà com'è questo film che è di un posto che non ho mai visto, ma tante volte la gente arriva dicendo, ah sì perché questo film giapponese ricorda molto la cosa e ne sa di più forse di una volta. Perché guardando appunto i palmarè di quest'anno credo che forse solo la Francia sia rappresentata delle nazioni, diciamo con un passato cinematografico diciamo così storicamente elevato, ma ho visto tutta roba molto nuova, molto giovane da quel punto di vista. Sì, è vero, sì, in effetti sì. E i verdetti poi sono sempre, come dire, opinabili, corrispondeva in ogni caso a quello che si è visto a grandi linee? Allora, io francamente avrei preferito qualcos'altro alla vittoria in questo caso qui, avrei preferito per esempio, al di là di Moretti, di cui dicevo prima, avrei preferito Caro Ismaki, che sicuramente è forse uno dei migliori film assieme a quello di Moretti e se vogliamo anche a quello di Bellocchio. e c'era, volendo premiare, è una cosa stupida da dire, ma insomma volendo andare sul, restare sulla Francia, c'era questo regista vietnamita ma naturalizzato francese che ha fatto questo film bellissimo, non mi ricordo mai il titolo perché in francese, devo leggerlo, scusate, si chiama La Passione d'Oden Buffon, di Tran Anhung, scusatemi, che veramente ha vinto il primo come migliore regia ma non avrebbe sfigurato per La Palma perché veramente sono due ore e venti di gente che cucina, che tu dici cos'è, però è fatto in un modo che è cinema, che è veramente cinema e resti incollato sulla poltrona nonostante sia, ripeto, due ore e venti di gente che fa da mangiare. Là magari è poco, però questo mi dà il desto, specialmente in una giornata come questa per ricordare anche una scena memorabile di quel straordinario film di John Huston che è dei morti o gente di Dublino, oggi è il Bloomsday, dove c'è questa scena di un pranzo e tu dici cosa mi interessa di seguire questo pranzo e invece c'è più cinema, adesso vabbè insomma c'è più cinema in quel pranzo, io dico una cattiveria, che nella maggior parte della carriera di Bellocchio, ma è un altro discorso anche perché devo dire la verità e qui magari facciamo un'incursione nei Davidi Donatello, io trovo che Esterno Notte di Bellocchio sia una delle cose più belle che io abbia mai visto negli ultimi anni, io non amo molto Bellocchio, devo dire la verità, però gli riconosco in questo film di essere stato, soprattutto non tanto di aver raccontato il caso Moro, perché paradossalmente raccontare il caso Moro non è nemmeno difficile, ma di aver raccontato quello che c'era dietro il caso Moro, restituendo anche quel clima che chi ha vissuto quei 55 giorni, avendo una certa età, io avevo 14 anni, quindi capivo già, quel film da quel punto di vista secondo me è un capolavoro assoluto, mi è sembrato strano che non abbia vinto il Davidi Donatelli, come il miglior film? Sì, certo, in effetti è strano, io ammetto che non ho capito esattamente come sia stato considerato, perché tecnicamente era una serie televisiva che è uscita in sala in due film, quindi non ho capito se effettivamente è magari una cosa un po' più tecnica, la non vittoria o cosa, o se effettivamente, devo dire che quest'anno se vogliamo tutti i nomi che c'erano in lizza per il David erano degli ottimi film e io avrei fatto fatica a scegliere, probabilmente avrei scelto anch'io Bellocchio perché effettivamente per quanto a me riguarda era forse una delle, cioè concordo con te sul fatto che fosse una delle cose più belle passate al cinema. E le otto montagne anche. Le otto montagne è un bellissimo film, sì, devo dire che riesce a rendere l'amicizia tra due uomini e la montagna, che sono due cose che sono difficilissime da rendere al cinema, anche perché di solito l'amicizia tra due uomini sfocia sempre poi nell'omosessualità, nelle cose che qua non c'è mai e la montagna di solito viene raccontata solo nel momento della grande esplorazione, devo raggiungere la vetta, quelle cose, il ghiaccio, la neve, i crepacci, invece questo è proprio raccontare la montagna, la vera, non so come dire, tipo più... Borghi sussurra anche in questo film o siamo... Borghi, no, devo dire che... Si capisce, ma non lo so, sì, no, no, e quindi no, quindi veramente un bellissimo film, io non ho letto il libro da cui il film è tratto, però devo dire che veramente il film merita, fra parentesi viene riproiettato in questi giorni al cinema al giardino, che ha ricominciato proprio ieri se non mi sbaglio... Esattamente, quindi recuperatelo se non l'avete visto e se potete perché secondo me è un ottimo film... Torniamo a Cannes, io non ho mai capito, c'è la sezione ufficiale, poi c'è anche questa roba che io non ho mai capito che cosa sia, Un certain regard, che è una specie di sottosezione che delle volte propone anche i film più interessanti per certi aspetti... A volte sì... Quest'anno mi sembra di no... Quest'anno no, anche per... cioè più che altro quest'anno in Un certain regard hanno messo quasi tutte opere prime... Ok, quindi... Che non è, nel senso, non è una cattiveria verso le opere prime, magari ci sono anche dei bellissimi film e che magari dovendo proprio scegliere i film, purtroppo il problema di Cannes, di tutti i festival è che non si può vedere tutto, bisogna assolutamente fare una selezione e praticamente inserendo i film che o bisognava andare a vedere, nel mio caso io cerco sempre di vedere tutto il concorso, semplicemente per poi in radio devo parlarne ed è quello che va per la maggiore e poi nelle sezioni collaterali vedendo le cose più importanti, quelle con i nomi più grossi, onestamente non mi è rimasto il tempo di andare a vedere Un certain regard, però sì, tante volte ci sono degli ottimi film. Però io non ho capito come dobbiamo considerare, cioè o quantomeno se i grandi eventi, eccetera, se danno unitamente magari al concorso ufficiale, se danno un'idea generale di cinema del momento. Non ho mai capito questo, ma forse non ho posto bene la domanda. Penso di aver capito, provo a risponderti e provo a risponderti con cattiveria, nel senso che chi mi conosce sa che io non amo il festival di Cannes per quanto riguarda l'organizzazione, trovo che dei tre festival che frequentiamo, dei tre festival internazionali che io con gli altri, Venezia, Berlino e Cannes, esatto, trovo che sia quello organizzato peggio. Questo mi sembra stranissimo, devo dire. No, però è veramente fatto così. E secondo me non ha, cioè uno dei problemi grossi è che Cannes non ha il rispetto per i film, ovvero trovo che, e secondo me quest'anno ancora di più si è mostrato tale, si prendano i film semplicemente per potergli dare la spunta, sono passati a Cannes. Il film di chiusura che è Elemental, che è il nuovo film della Pixar, è stato praticamente invisibile, nel senso che è stato proiettato solo una volta dopo le premiazioni. Che quel che è sempre la cosa, secondo me non... Esatto, bisognava costringere tutti quanti a restare... Secondo me i festival devono chiudersi con le premiazioni e basta. Esatto, o almeno, insomma lo sai, siamo giornalisti, è chiaro che c'è una certa tensione sul film della Pixar, fai una o due proiezioni anticipate, questo genere di cose che generalmente ai festival si fanno, anche Venezia comunque è il film di chiusura, ma di solito lo mostra prima per certe persone. Non si è visto. Mi ricordo un paio di anni fa quando uscì il film di Terry Gilliam, quello su Don Quixote. Sì, bellissimo film tra l'altro. Bellissimo film, super atteso perché tutti volevano vedere quel film, fecero una proiezione sola di quel film. Adesso non mi ricordo, c'erano anche quest'anno un paio di film che sono stati messi in camp premiere. Camp premiere è una sezione collaterale che non si capisce cosa c'è dentro e dentro di solito l'idea è che buttano le cose che vogliono far passare a Cannes. Insomma, è tutta una cosa del più ce n'è meglio è. Tant'è vero che le sezioni altre che sono la Kenzende Realizzatore e la Semaine de la Critique, che sono indipendenti, che generalmente gli anni scorsi avevano dei film comunque interessanti, con comunque dei nomi grossi che magari non passavano. Quest'anno praticamente di nomi grossi non ce n'erano. Perché? Perché Cannes, Cannes ufficiale, la parte ufficiale, ha preso tutto buttandolo in maniera sconsiderata qua e là, in queste sezioni un po' a caso, semplicemente per far vedere che quel film era passato a Cannes che non ha lasciato niente alle altre sezioni. Quindi secondo me Cannes forse da poco l'idea del... è proprio bulimico come festival, ma in un senso sbagliato del termine, proprio perché appunto c'è questa voglia di prendere tutto semplicemente per far vedere che il film è andato lì, ma non dovrebbe essere così per un festival. Dovrebbe esserci una linea editoriale che dice questo lo prendiamo, questo non lo prendiamo, eccetera, eccetera. Mi dicevi prima di incominciare, non sei rimasto molto soddisfatto da Indiana Jones? No, ammetto di no. Il quinto capitolo, insomma, di questa saga è... Dimmi che almeno non è lunghissimo. Eh beh, comunque dura sulle due ore e mezza, sì. E ormai questi film così non se ne scappa, mi sa perché è quella lunghezza da film Marvel, tra virgolette, che ormai... Vabbè, comunque, quinto capitolo, Harrison Ford dice che è lui che è l'ultimo, per quanto lo riguarda. Ha 80 anni lui. Sai che sì, può essere, sì. E il film secondo me non è buono, allora non è buono per me che non amo un certo tipo di film, ma secondo me non so neanche quanto può essere buono per un fan di Indiana Jones, nel senso che è vero, ha tanto fanservice, ovvero ci sono degli attori, dei personaggi che ritornano dai capitoli di Chris Davis, esatto, ma non è... mi pare che non sia il solo, insomma, ci sono un paio di riferimenti proprio puntuali al passato, insomma, però il film non funziona, non ingrana, è vecchio, è polveroso, ci sono praticamente... è un film fatto da inseguimenti, sostanzialmente, che coprono tutto il film legati da una sorta di trama che dovrebbe tenerli assieme, c'è questo nuovo personaggio che dovrebbe, forse un po' nell'idea magari degli sceneggiatori, poter essere una sorta di prosieguo del franchise, insomma, magari con un altro nome, ma insomma l'idea è quella, però secondo me non è un personaggio positivo, non è un personaggio a cui affezionarsi. E' lo stesso discorso, ne discutevo con alcuni miei compagni di classe la scorsa settimana, mi siamo visti, è lo stesso discorso questo, di cercare di introdurre nuovi personaggi che c'entrano poco, anche se vogliamo, con una certa mitologia, è lo stesso discorso che hanno cercato di fare con l'ultimo 007, anzi per essere più precisi, con l'ultimo James Bond, introducendo questa nuova 007, adesso non stiamo a cavillare su perché esiste 007 parallelamente a James Bond e tutte queste cose, oltretutto chiamando un'attrice con poco appeal e costruendo anche un personaggio piuttosto fastidioso e abbastanza antipatico, se volevano insistere, se volevano sfruttare tutto ciò per un nuovo franchising o magari anche, che ne so, tipo per una serie televisiva, per uno spin-off eccetera, è andata malissimo perché il personaggio non ha incontrato la stessa roba. E qui secondo me è un po' la stessa cosa, poi naturalmente alla fine dai e dai, dopo due ore e mezza, un minimo, proprio per sfinimento, però secondo me non, cioè proprio non dovrebbe essere così anche da un punto di vista razionale e c'era un'altra cosa che volevo dire sul film, adesso non mi ricordo più e niente, basta parte. Invece anche questo lungo, però mi dicevi molto bello quello discorso. Sì esatto, adesso i miei sodali se guardano questa cosa non saranno per niente d'accordo, io l'ho trovato un po', cioè io ho sofferto un po' la lunghezza del film perché comunque dura tre ore e mezza c'è stata una polemica perché Scorsese aveva dichiarato che il film sarebbe stato lungo appunto tra le tre ore e mezza e le quattro ore addirittura e Cannes aveva detto noi prendiamo il film solo se il film viene tagliato e viene portato a tre ore e mezza, cosa che era abbastanza forte come ingerenza da un punto di vista insomma artistico nei confronti di un regista che giustamente ha detto ma io faccio i film che voglio fare io o no? Però insomma la sarebbe da discutere. Però sì comunque è un ottimo film Scorsese e si vede che proprio Scorsese ci teneva a fare questo film, a raccontare questa storia, ci sono DiCaprio e De Niro che sono giganteschi, veramente loro tengono su tutto il film, in realtà lo tiene anche la protagonista femminile di cui scusatemi non ricordo il nome, però veramente sarà uno dei migliori film della stagione. Senti la professoressa Stefania Iapoce che è una grande fanatica di cinema eccetera sostiene che quando Scorsese non gira per strada dice c'è sempre qualcosa che almeno a lei non la convince. Devo dire la verità io fatta eccezione forse per l'età dell'innocenza e per Ugo Cabret sarei della sua opinione. Io non amo moltissimo Gangs of New York perché ricostruito in studio, anche The Aviator mi sembra un po' pretestuoso eccetera. Questo contraddirrebbe un pochettino perché è uno Scorsese ambientato credo inizio secolo, inizio novecento e poi non gira, se proprio vogliamo, non gira per strada ma gira in deserto. Sì esatto e anche lì poi non so quanto effettivamente si è ricostruito perché magari chiaramente, quindi sì diciamo che non è uno Scorsese per strada, insomma sì nonostante tutto. Sì io direi che contraddirrebbe questa cosa, poi magari lei in realtà ci trova effettivamente qualcosa che non le va, insomma nel film ci sta nel senso che comunque il film è talmente pieno di cose che posso capire che qualcosa effettivamente non funzioni, magari preso singolarmente possa non funzionare. Secondo me nel complesso comunque resta decisamente un ottimo film. Anche il silenzio di Scorsese a me è piaciuto se devo essere sincero, invece non mi è piaciuto tantissimo, come si chiama, Shutter Island, benché ci sia un DiCaprio secondo me straordinario anche là ma non mi è piaciuto molto, forse anche perché avendo letto il libro ho trovato delle cose che non mi andavano, ma comunque sono altri discorsi. Volevo avviarmi verso la chiusura perché già stiamo in chiusura con un'altra riflessione che riguarda un pochettino la critica, eccetera. Io devo dire la verità continuo ad acquistare Chuck un po' anche per affezione, ma insomma ho molto da discutere insomma su… Negli ultimi 3-4 numeri nella sezione delle recensioni, io vedo 4 stelle, 4 stelle e mezzo, 5 stelle, se va male sono 3 stelle. Ora capisco benissimo che le stellette, i pollice verso medio, insomma non è che… però voglio dire chi legge, chi leggesse velocemente vede, dice siamo in presenza di capolavori assoluti che ne escono 10 al mese, eccetera. Vedo che già intuisce, cioè è necessaria una cosa di questo genere, cioè voglio dire se uno appunto legge queste cose e dice ma forse io non so, non capisco più quello che sta succedendo perché mi perdo questi capolavori, non li dicono, cioè 5 stelle significa che è alla pari di Citizen Kane piuttosto che è la donna che ha visto due volte. Certo, chiaro, allora io personalmente non amo le stellette, i pallini, i roti, quello che è. Detto ciò è vero anche che qualcuno diceva che per dare 5 stelle devono passare un tot di anni, no semplicemente proprio per far decantare il film perché magari vedi un film, dici come questo è bellissimo, poi in realtà magari rivisto più volte a distanza di anni, a distanza di tempo, le cose si o si confermano magari o si ridimensionano. Tu mi chiedi è necessario, io ti dirò con la morte nel cuore che forse è necessario per i social. Sì, sì, sì. Perché? Perché purtroppo guardandosi in giro i film, ma in realtà tutto, ma principalmente i film che sono la cosa su cui mi concentro di più, o è un capolavoro assoluto o è la roba più brutta dell'universo. Ho mai visto un film così brutto? Hai voglia che abbiamo visti dei film brutti, questo è niente al confronto. Però è così, non hai mai quella via di mezzo, quel film, quel DC. Sì, è un buon film, ha dei difetti però è un buon film oppure non è un gran che, però ha dei momenti che funzionano. Questa cosa non c'è più, perché la gente vuole, non so, vuole la polemica, vuole l'assoluto, non so cosa sia però e temo che questo sia un po' figlio di questa cosa qua. Ti faccio, Alan, un'ultima domanda. Mi è venuta in mente, proprio sentendo la tua risposta, ti è mai capitato di, non so, a me è capitato con Il Cacciatore. Io lo vivi al cinema, quando uscì nel 79, al cinema Fenice e lo trovai un capolavoro assoluto. Lo rividi un paio d'anni, non paio, parecchi anni dopo in VHS, quindi voleva dire che eravamo sicuramente dopo l'85 e lo trovai spaventosamente datato. L'ho rivisto più di recente e di nuovo l'ho trovato quasi, pressoché perfetto, eccetera. Ti capita, capita anche a te delle volte di avere questi strani feedback dalle visioni successive del film? Qualche volta sì, adesso francamente se mi chiedi un titolo o no. Allora, di solito la cosa che succede un po' con tutti è i film che generalmente si sono visti da giovani, che magari all'epoca era, dicevi, wow, questa è una figata pazzesca. Lo riguardi adesso e dici, sì, però magari non è così tanto. E io, guarda, forse dovessi dirtene uno, ti direi, ti è incassato Roger Rabbit, che trovo che sia un capolavoro, però forse all'epoca non l'avevo capito. Ah, quindi il contrario, sì. L'avevo un po' snobbato e poi riguardandolo avevo colto molti più particolari, molte più cose, dicendo, ah ma allora non era così banale, così stupido come è. E tra la lista di quelli che vorrei rivedere, tra l'altro. Perché ha in sé delle battute, delle cose, dei riferimenti che non sono banali. Tante volte appunto è magari anche proprio il fatto del vivere quel film nel momento giusto. Tante volte non sei pronto per vedere un film. A me è capitato di aver rivisto Animal House e di non essermi divertito per niente. Ho rivisto invece, come si chiama, The Blues Brothers e l'ho trovato ancora spumeggiante. Poi dopo, insomma, questo anche dipende. Sì, ma la poltrona per uno. Io una poltrona per uno non lo sopportavo. scopi, per una, scopi, per una, scopi, una poltrona per due. Non lo sopportavo, l'ho rivisto recentemente e invece l'ho trovato in uno film. Sai che io non l'ho mai rivisto da quando l'ho visto al cinema? Urca. Mai. Neanche per Natale che sembra sia diventato. Esatto. C'erola ha, va bene. Allora, grazie per essere stato con noi, come sempre. Una poltrona per uno, quando va? Esatto. Il venerdì in replica il lunedì alle ore 13. In realtà adesso faremo una piccola pausa per estiva, ma insomma abbiamo ancora una puntata dedicata all'ex mare metraggio a Shorts, che incombe, e poi a fine agosto con Venezia. Grazie a Lambiezzoli, ci vediamo dopo la pubblicità, continuiamo a parlare di film, anche di libri. Allora, rientriamo in studio. Ogni tanto succede che un ospite sia impossibilitato a raggiungerci e ce lo comunichi quando siamo già in onda, quindi è successo anche questa volta. Io chiedo scusa ai telespettatori, chiedo scusa anche all'ospite, perché poi magari delle volte tutto ciò dipende anche da una serie di incomprensioni, eccetera. Ringrazio a Lambiezzoli che rimane con noi anche per i prossimi 25-25 minuti. Figurate. Allora, parliamo un po', ne abbiamo parlato un pochettino prima, concentrandoci sui film presenti a Cannes. Parliamo un po' del cinema italiano. Sì. Io l'altra settimana, devo dire la verità, devo avere un po' irritato Pier Francesco Favino, perché io parto da un presupposto e riguarda il fatto che in un modo o nell'altro il cinema italiano non mi sembra collegato alla realtà del paese. Ho posto questa considerazione e me ne sono reso conto dopo a uno dei pochi attori che in realtà, specialmente negli ultimi anni, con Il Testimone, altro bel film di bell'occhio, con Mamet, secondo me pessimo film su Craxi, ma l'interpretazione di Favino è eccellente, con Ahab ancora anni prima. In realtà la realtà di questo paese Favino al cinema l'ha raccontata. Mi sembra probabilmente che ci sia uno scollamento, eccolo qua, con la commedia. È vero, sì. La commedia, io non trovo più delle commedie che raccontino il paese, insomma. È vero, sì, secondo me hai ragione. Lo trovo, trovo questa stessa identica, cioè ho fatto anche io questo stesso identico ragionamento, nel senso che le commedie o vanno tanto sul demenziale, su proprio quelle cose completamente fuori, o se no portano avanti una, non ti dico necessariamente uno stereotipo, ma comunque una narrazione che è vecchia, che è stantia, che è scollegata dal paese, dal paese reale e le poche volte in cui si prova a farlo vengono fuori delle cose che sono assolutamente orrende. Per cui sì, è vero, manca tanto quella cosa lì. Quando anche, cosa ancora peggiore secondo me, non si tratti di versioni italiane, di commedie, di film realizzati in altri paesi che poi hanno successo, c'è questa tendenza adesso e dove però poi l'ambientazione italiana per forza di cose risente di questo. Io per esempio anni fa avevo visto a Parigi, non mi ricordo qual è il titolo originale, il film che ha, mi pare che si chiamava Giù al Nord, però il film francese. Esatto, sì. E Bienvenue chez les Stits si chiamava in francese, poi hanno fatto la versione italiana e ho trovato, l'ho trovato poco, come dire, un'occasione persa perché in quel film si è ripetuto lo stereotipo del settentrionale che scende al meridione, dove invece il punto di forza del film francese era lo stereotipo del meridionale che sale nel Nord grigio, buio, etc. Fatte le debite proporzioni sarebbe stato per una volta tanto più curioso, anche qua, a fare la storia di un napoletano che viene mandato a lavorare al Nord. Certo, ci vuole però più imbettiva. Certo, che in realtà credo sia poi stato fatto col seguito, se non ricordo male. Col seguito, però sì. Però sì, no, certo, è sempre quello il punto, servono gli sceneggiatori, serve chi scriva queste storie. Uno dei problemi che con i miei sudali sempre ne parliamo, probabilmente perché ci tocca da un punto di vista anagrafico e che manca il racconto di quella che è la nostra generazione. Adesso io sto andando un po' fuori, cioè io per quanto riguarda me stesso sto andando un po' fuori avendone fatti 40, però ci sono i cinquantenni che tradiscono la moglie, quello ce n'è pienissimo, non se ne può più. Ci sono i giovani diciottenni raccontati male da cinquantenni che generalmente scrivono cose di cui non hanno assolutamente idea, quindi non hanno un'idea di come si comportino effettivamente i ragazzi e la fascia nostra non esiste. Però evidentemente siamo persone che vanno al cinema, siamo persone che esistono e non riuscire a raccontare in realtà due generazioni, perché non viene raccontata la nostra e viene raccontata male la generazione più giovane ancora e evidentemente è un problema perché vuol dire non avere la capacità di fotografare il paese. Ma se ne esce secondo te? Perché non vedo all'orizzonte o quantomeno quelli che sembravano poi poter essere in grado di combinare qualche cosa in tal senso, poi si sono diventati abbastanza autoreferenziali. Penso a Virgì per esempio, so che a te non piace come riferimento, però secondo me l'unico che racconta, non dico tanto una generazione ben precisa, ma un tipo italiano abbastanza ben preciso, rimane che Cozzalone. Allora è vero che non mi piace, però effettivamente hai ragione, cioè non posso darti torto su questa cosa qui. Io spero che magari dalle serie televisive magari possa arrivare qualcosa, c'è questa nuova serie televisiva dei The Jackal, ci sono i The Pills che fanno le cose, però sono sempre anche là, è sempre buttato molto sul comico, è buttato molto sull'autoreferenziale e bisognerebbe cercare di uscire dall'orticello, diciamo così. Se questa gente qui riuscisse a effettivamente uscire dal proprio orticello e passare a una scrittura più matura, cioè che sia fresca e giovanile, ma che non sia appunto guardando solo se stesso, che non sia lo sketch, che non sia la cosa, forse si potrebbe costruire una generazione di… ci sono anche quei due, adesso mi sfugge il nome che avevano fatto e che avevano sceneggiato Metti la nonna in freezer, scusatemi, che hanno fatto la serie televisiva, quella con Locascio e la Pandolfi, perdonatevi, hai citato due attori che io non sentirei… è un lapso staribile che anche loro, secondo me, anche loro dal punto di vista della scrittura riescono molto bene, il punto, siamo sempre un po' là, il fatto che qualcuno dia loro la chance di poter fare, lasciare magari un po' carta libera, carta e il fatto di chi scrive di effettivamente voler mettersi d'impegno e creare qualcosa che funzioni. Questo che hai detto tu potrebbe anche aprire un interessante dibattito sull'utilizzo di alcuni canali YouTube, perché secondo me alcuni di questi… io seguo due fratelli che si chiamano Le Coliche, è molto divertente, in alcuni casi alcuni canali YouTube ripropongono la struttura dello sketch cui era abituata la mia generazione, già la tua credo che non venisse su con le scenette… Allora, forse io un po' di più, perché comunque ho un qualche anno in più e comunque tendo… ho sempre cercato di guardare un po' il passato, effettivamente penso che già i miei colleghi non sia il tipo di comicità a cui sono abituati. Per esempio, mi veniva in mente perché questi due delle Coliche ogni tanto fanno uno sketch che si ripete ed è loro due che si ritrovano su una terrazza romana e ne dicono di tutti i colori su Roma eccetera, con una comicità di un cinismo impressionante come buona parte dei romani ed è lo schema più o meno simile per certi aspetti di Ale Franz, ma che ha la sua base, come dire, più solida in Agus, Vianello che si incontravano nella panchina durante Sai che ti dico e queste cose qua. Ed è curioso però, come dici tu, che in alcuni casi hanno provato il salto cinematografico, anche Jackal, con cervelli verdi fritti mi pare… Sì, esatto, esatto. Perché dove c'è Napoli io in genere mi butto ed oggettivamente sembrava, a me è divertito, però è logico che sembrava uno sketch lungo. Esatto. Non un film con le caratteristiche del film. Esatto, ma in realtà magari anche il film in sé ti diverte, però non è una cosa che puoi portare avanti, cioè dovessero già fare un secondo film, se lo facessero uguale a quello lì e non funziona più. Vero è per esempio poi, scusa se ti parlo sopra, mi veniva in mente anche quel film di cui non ricordo il titolo, di Capatonda, con anche Sabrina Ferilli, dove era una satira anche piuttosto pungente su certi fenomeni televisivi in base alla quale un paese povero dice per fortuna abbiamo un delitto, marciamoci sopra così vengono le telecamere e facciamo queste cose qua. Quello è stato assolutamente massacrato dalla critica ed era secondo me invece uno dei tentativi di raccontare qualche cosa che anche il pubblico meno attento però poteva percepire perché i riferimenti a certi programmi televisivi del pomeriggio erano palesi insomma. Esatto, infatti è veramente un peccato, lì forse pagava lo scotto che comunque Capatonda era molto presente e la comicità di Capatonda non è per tutti, bisogna un po' entrarci, bisogna un po' insomma fare un piccolo patto con lui nel senso di ok tu fai queste cose qua io ci sono insomma e capisco che non possa essere da tutti. Però sì in effetti se riuscire a proseguire un po' questa strada, poi tra l'altro Stasi e Fontana sono i due sceneggiatori di cui parlavo prima, mi sono venuti in mente i nomi, ecco se questo filone di questi autori qui riuscisse a farsi un po' carico, riuscire a portarli avanti, a finanziarli, a dar loro fiducia eccetera eccetera magari forse da loro si potrebbe cominciare a creare. Adesso che mi viene in mente adesso, anche quel film Moriremo democristiani del terzo segreto di satira, anche lì c'era un tentativo di, però poi ed è curioso che la stessa stampa che fin quando restano diciamo confinati dentro la rete su YouTube eccetera gli esalta, sono i primi poi a, come dire, a dirne di tutti i colori quando questi fanno il passo cinematografico ed è anche lì forse una sorta, si innesca una sorta di cortocircuito che non è propriamente produttivo. Sì, infatti io ho sempre un po' il dente avvelenato su una certa stampa, ma in realtà anche di amici, di gente che conosco che hanno parlato molto male della trilogia degli smetto quando voglio, che secondo me è una cosa, una delle migliori cose fatte in Italia nell'ultimo periodo. Anche come concezione. Come concezione, esatto, proprio come idea, come racconto, quel cliffhanger del secondo al terzo episodio è eccezionale, io ho la pelle d'oca ogni volta che ci penso ed è una sciocchezza però è fatta talmente bene che ecco, forse appunto, forse un po' Sidney Sibilia con la sua Groenlandia, con Matteo Rovere che era appunto la casa di produzione che loro due hanno assieme, anche loro stanno cercando in qualche maniera di svecchiare un po'. Perché il problema, ed è paradossale, è che gli attori ci sono. Esatto. Abbiamo un gruppo di attori, però a mio avviso, qui vi fermo subito e ti pongo subito, non ci sono però delle attrici facilmente identiche. Cioè uno può dire vado a vedere un film con Favino, vado a vedere un film con Servillo, vado a vedere un film con Neri Marco Re, vado a vedere un film con... e tutte queste cose qua, e li vedi. Se a me dicono c'è un film con Alessia Mastronardi, io non riesco a... io solo una riesco ad immaginare che secondo me recita malissimo anche quando cammina, non dirò il nome. Ok, poi me lo dici in fuori onda. Ehm... Puoi dire... E anche questo è un problema, cioè chi ti fa andare al cinema, chi esercita un richiamo. E' vero, perché le attrici riconoscibili... Riconoscibili, scusami... Possui, la bui... Sì, ecco, ok, esatto, o sono... Però che sono sempre legate un po' troppo spesso a quel tipo di film molto di famiglia disfunzionale, famiglia che si rompe, famiglia che... E un che mette su una famiglia con la bui va incontro alla disfunzionalità comunque, insomma. Oppure, oppure ci sono le attrici comiche, non so, penso alla Cortellesi, che ultimamente ha anche cercato un po' la strada del... Scusate se esiste un messo. Esatto, sì, la strada del serio. Però sì, non bastano evidentemente. La Cortellesi, secondo me, è l'unica che possa in qualche modo... Sono ragionamenti anche senza senso, se vogliamo, però l'unica che possa in qualche modo raccogliere l'eredità della Vitti. Sì, sì, sì. Per, se vogliamo, proprio, fare questo discorso. Sì, sì, perché riesce effettivamente a modulare benissimo il tragico e il comico in maniera molto funzionale. Sì, sì, so che è un argomento che tu fuggi sempre, ma prima o dopo dovrai anche per forza di cose affrontarlo. Capitolo serialità. Sempre a livello, magari, italiano, eccetera. C'è una produzione, diciamo così, delle reti televisive generaliste che è qualcosa di anche imbarazzante. Insomma, diciamo... Sì, per lo più sì. A parte qualche eccezione, ma è abbastanza imbarazzante. C'è una produzione di piattaforme, inseriamo anche Sky nel discorso di piattaforme, che invece è piuttosto interessante e che probabilmente può andare oltre chiasso come possibilità di esportabilità e di comprensione. Però qua, secondo me, si inserisce lo stesso discorso che facevamo all'inizio parlando dei film. C'è anche là un livellamento verso l'alto che però, a mio avviso, rende tutti i prodotti abbastanza uguali. Cioè, il giallo viene fatto in un certo modo quasi mai nelle grandi città, quasi sempre in città di provincia dove c'è parecchio bosco, laghi e tutte queste cose. Detectivi che comunque hanno dei problemi, il fatto che alla fine poi ti è memoria di guardare un film di Agatha Christie, quantomeno per aver solo... Esatto. Qui non riesco a capire se è un problema o se è un'opportunità, non riesco a farmi un'idea. Non lo so. Tu meno ancora perché non li vedi. Forse meno ancora, forse effettivamente, come dicevamo prima, io qui sono morettiano proprio dal punto di vista di quella che è la scena di Netflix all'interno del Sol dell'Avenire. Ovvero, proprio appunto, il fatto di noi esportiamo in 194 paesi, però vuol dire appunto fare tutte le cose un po' tanto uguali, con lo stesso tipo di fotografia, lo stesso tipo di inquadratura, lo stesso tipo... Cioè, veramente, ti chiedi effettivamente quanto il regista abbia il... in mano alla situazione, abbia possibilità di dire la sua e di fare il regista, effettivamente, e quanto sia tanto imposto dall'alto. E alla fine rischia veramente di diventare... cioè, ho paura che uno dei grossi problemi della fiction italiana sia il voler scimmiottare la fiction estera. E facendo questo non ci si riesce, perché la fiction estera, soprattutto la fiction statunitense, sarà sicuramente migliore, sarà sempre migliore nel... quel tipo di prodotto, perché loro lo sanno fare meglio, con più soldi, con attori migliori, con sceneggiatori migliori, eccetera, eccetera. Bisogna trovare una terza via che non sia il medico in famiglia e che non sia rifare le serie, le fiction americane, perché non è questo. C'era su... e ci arriviamo alla conclusione... c'era su Film TV qualche mese fa un articolo molto interessante, firma, non mi ricordo se era il direttore o chi per lui, non credo il direttore, dove si evidenziava un dato, che anche qui conta molto l'argento, no? I francesi, che si sa che quando debbono portare avanti i prodotti loro non guardano in faccia a nessuno, hanno investito credo complessivamente qualcosa come 50 milioni di Euro per ognuno dei nuovi due film sui tre moschitieri. Dicevano che è impossibile pensare nel nostro paese un'operazione del genere per, dico così, i promessi sposi. Sì, 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 certo. E temo invece quello che sta succedendo con il gatto pardo, eccetera. E anche un problema di investimenti? Secondo me sì. Leggevo recentemente qualcuno che, o sentivo, se non mi ricordo, qualcuno che diceva che in Italia si fanno film per prendere i finanziamenti. Cioè nel senso c'è il ministero, chi per lui, che dice abbiamo, stanziamo questi soldi, c'è la gente che porta un progetto e fa il film perché deve soddisfare quel progetto, che poi sia una cosa che vuole essere, che le persone che l'hanno posta vogliono farla o semplicemente volevano ottirare su dei soldi. Come quella di Conte Corvo, no? Che diceva che se poi ci fanno fare i film... Esatto, esattamente. E allora, al di là poi quanto effettivamente sia effettivamente vero, però temo che un po', che almeno un fondo di verità ci sia, insomma, al fatto che forse appunto, forse i veri investimenti sono solo sulle piattaforme, ma ritorniamo nel circolo vizioso, le piattaforme hanno bisogno di prodotti da esportare e quindi ritorna a essere il classico prodotto con quello stile, con quello standard, e non ne usciamo, insomma. Per non dire anche del fatto che, a mio avviso, ancora poco si produce tratto da libri. Ci sono dei romanzi che sembrano scritti, sembrano delle sceneggiature, che non vengono prodotti, dove magari si producono delle cose, tipo come il cardellino, come si chiamano, il cardellino. Sì, ho capito cosa intendi, adesso mi sfugge, ma ho capito. Il gioiellino, una roba allucinante, affidando nella regia anche l'Archibugi, quindi sbagliando, secondo me, perché, insomma... E' logico che poi diventa una cosa all'interno dei parioli, dalla quale non si esce. Sì, sì, magari quelle cose viste milioni di volte, di cui non se ne può più, insomma. E sarebbe curioso poi anche vedere, effettivamente, ma questo magari lo approfondiremo la prossima volta che ci vediamo, e poi capire come le nuove generazioni guardano e quali prodotti italiani vedono. Chiaro. Perché anche quello è una cosa non da poco. Direi che possiamo chiudere questa puntata. Alan, grazie davvero per essere rimasto anche nella seconda parte. Noi con Trieste in diretta ci vediamo martedì, come sempre a partire dalle ore 18. Sarò in ferie una settimana, per cui non graverò sui telespettatori, però il programma rimane. Grazie ancora dall'Ambiezoli, buona serata a tutti e arrivederci. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.